Una buona serata edizione della notte del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca che ha visto purtroppo protagonista la Val Vibrata in questi ultimi due giorni. Si è suicidato in un appartamento di via Baracca a Martinsicuro Enrico Di Luca, l'uomo che ieri ha ucciso a colpi di roncola l'oncologa Esther Pasqualoni, oncologa dell'ospedale Val Vibrata di Santomero, freddata nel parcheggio del nosocomio. Domani è previsto l'esame autoptico sul corpo della donna, cui funerali con ogni probabilità dovrebbero svolgersi sabato a Roseto degli Abruzzi. Sempre domani sarà eseguita l'autopsia anche sulla salma di Enrico Di Luca, il suo killer. Tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primante. Non ci sarà giustizia, almeno in questo mondo, per Esther Pasqualoni. Le forze dell'ordine messe sulle tracce dell'assassino dai testimoni dell'omicidio sono arrivate troppo tardi nell'appartamento di via Baracca a Villa Rosa di Martinsicuro, dove Enrico Di Luca, 69 anni, ex investigatore privato, ha scelto di togliersi la vita strangolandosi con una fascetta di plastica, forse poco dopo l'omicidio. Parcheggiata sotto casa è stata ritrovata la 106 Bianca con cui, ieri pomeriggio, armato di una roncola, aveva raggiunto l'ospedale di Santomero. Era lui lo stalker che il 24 gennaio del 2014 la 53enne oncologa di Roseto aveva segnalato con un esposto al commissariato di Atri e verso il quale c'era stato un provvedimento di ammonimento da parte del questore di Teramo con contestuale sequestro del porto d'armi. Evidentemente troppo poco per cancellare dalla mente dell'uomo l'ossessione per la dottoressa responsabile dei ospital oncologico dell'ospedale della Val Vibrata. Si conoscevano dal 2005 e come dichiarato alla polizia dalla stessa dottoressa, tra loro c'era una relazione di amicizia decennale. Amicizia sempre più morbosa, diventata patologica quando a fine 2013 l'uomo ha iniziato con pedinamenti e messaggi insistenti. La dottoressa si sentiva spiata e aveva paura, avendo anche perso il marito due anni fa ed essendo mamma di due figli piccoli che oggi hanno 11 e 16 anni. Nell'esposto per stalking però non si parla di aggressioni o minacce, ma di attenzioni insistenti e continue suffragate da testimoni subito ascoltati dagli investigatori. In via Baracca di Luca lo conoscevano tutti ed era amico di tutti, prendeva il caffè sempre al solito bar e i condomini spesso gli lasciavano anche le chiavi delle proprie abitazioni perché si occupava di piccoli lavori. Un insospettabile insomma, secondo un cliché ormai consueto per questi fatti di sangue. Mai ho avuto il sentore che potesse capitare una cosa del genere, anche perché sembrava una persona normalissima a tutti gli effetti. Come ho detto in un'altra intervista, la stessa cosa ripeto a voi. Era un uomo di un'educazione, non dico unica, ma come tutte le persone normali. Dunque due omicidi in poche ore e il tragico bilancio di un solstizio d'estate che in provincia di Teramo e nello specifico in Val Vibrata ha lasciato dietro di sé una tremenda scia di sangue. Prima l'uccisione di Manuel Spinelli e poi per l'appunto quella di Esther Pasqualoni. Un cerchio chiuso proprio oggi con il ritrovamento dell'assassino dell'oncologa che si è tolto appunto la vita, come avete visto, a Martinsicuro. Vediamo. Due omicidi in meno di un giorno e protagonista in entrambi i casi la strada. Stavolta è la Val Vibrata a farsi doppio palcoscenico di sangue, vendette, morte. La prima nella tarda serata di martedì ad Alba Adriatica, zona lungomare, cuore della movida notturna, soprattutto estiva, con l'albanese Farim Koldashi che dopo una colluttazione sferra due fendenti che colpiscono Manuel Spinelli, 22 anni. Pochi secondi, probabilmente la recrudescenza di vecchi ruggini che coinvolgono l'attuale ragazza di Koldashi, ex di Spinelli. Chi lì è accanto, vedendolo accasciarsi, prova a trasportarlo in ospedale, caricandolo sull'auto, poco distante, mentre i testimoni hanno già avvisato il 118 e i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Da Giulianova parte un'ambulanza per soccorrere Spinelli, che però non ce la fa. Nel frattempo l'assassino è sparito, ma le forze dell'ordine ci mettono poco a rintracciarlo a qualche chilometro di distanza, a corropoli, con traumi al volto e non solo, conseguenze della colluttazione avuto a qualche ora prima. I carabinieri lo portano all'ospedale di Teramo, dove viene ricoverato in una camera di sicurezza, piantonato dagli agenti. Storia difficile da spiegare, quella di un ragazzo di 22 anni che lascia la sua vita sulla strada. Ancora più difficile, quando a farlo, è anche un'oncologa, nello stesso giorno, qualche ora dopo, nel pomeriggio di ieri. Scena sempre alla vibrata. Ospedale di Sant'Omero, sono passate da poco le 15 e l'ester Pasqualoni, 53 anni, ha appena terminato il suo turno di lavoro, quando il killer la avvicina e con quattro colpi di roncola la gola e la nuca la uccide. Il medico resta senza vita per terra, con l'assassino che scappa, ma senza poter evitare che qualcuno dalla finestra veda la sua fuga, che racconterà le forze dell'ordine. Che iniziano a braccare un uomo che da tempo la molestava e che Esther Pasqualoni aveva anche denunciato, senza evidentemente però che accadesse nulla, raggiunta e freddata così, in strada, anzi, nel parcheggio, in un caldo pomeriggio di giugno, che adesso chiude il suo cerchio insanguinato, perché l'assassino di Esther, Enrico Di Luca, non ha resistito e si è tolto la vita a Martinsicuro, a nord di una provincia, quella di Teramo, che adesso si riscopre fragile e incredibilmente pericolosa. Ed è stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Manuel Spinelli, il 22enne di Etnia Rom, ucciso martedì sera davanti al Wolf di Alba Adriatica. L'esame effettuato dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra ha evidenziato una lesione all'altezza del cuore, che però non ha provocato la morte sul colpo del ragazzo, che invece è espirato dopo aver raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova. Il fendente comunque è stato letale per il 22enne, causandone il decesso. Riflessioni amare dal mondo femminile sulla tragica morte di Esther Pasqualoni, uccisa dal suo stalker. È necessario ora più che mai fare rete tra forze dell'ordine e centri antiviolenza a sostegno di quelle donne che hanno la forza di denunciare, ma che poi vengono lasciate sole. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Ha combattuto una battaglia da sola, per anni e anni, contro uno stalker maledetto che l'ha perseguitata giorno e notte. Alla fine lui l'ha aspettata nel parcheggio dell'ospedale di Santomero, dove lavorava e l'ha uccisa, tagliandole la gola. Quasi una decapitazione. È morta così Esther Pasqualoni, oncologa teramana, 53 anni, con due figli adolescenti. Già da tempo aveva avuto il coraggio di denunciare alle forze dell'ordine quest'uomo che le rendeva la vita impossibile, pedinandola dovunque andasse, inondandola di messaggi sul telefono e su Facebook, ma le sue querele erano state archiviate, come spesso accade. Esther aveva conosciuto il suo persecutore anni fa, in occasione del ricovero del padre, e da allora è iniziato l'inferno. Esther si è sentita sola. Le denunce sono state archiviate. E lei magari non si è rivolta a un centro antiviolenza. In provincia c'è. Sì, in provincia c'è il centro antiviolenza La Fenice, che noi, tra l'altro posso dire, siamo forse uno dei pochissimi enti che lo gestisce direttamente. Tra l'altro, proprio in questi giorni, stiamo rimodulando il servizio per consentire alle donne non soltanto l'ingresso programmato, ma anche l'ingresso in emergenza, perché ci siamo accorte dai dati che normalmente analizziamo, che spesso e volentieri le donne hanno bisogno proprio di prima emergenza. Lei è un avvocato. Cosa si potrebbe fare di più? Allora, io che cosa ho notato? Che in questa duplice veste, sia di consigliere con delegale pari opportunità, ma anche di operatore del diritto, ho notato che rispetto al passato le donne sono molto cambiate, grazie anche al sostegno delle enti, delle associazioni. Quindi ci sono donne che denunciano Esther, e ne è un esempio emblematico perché aveva già effettuato due denunce. Però credo anche che sia necessario non soltanto ad oggi fornire questi strumenti che pure ci sono in provincia di Teramo, c'è anche la casa rifugio, ma credo sia anche opportuno dare un giro di vita alla legislazione che già esiste e realizzare comunque, applicare in maniera concreta e puntuale delle forme di tutela che la normativa attuale prevede. E' bene ricordare ancora una volta che la provincia di Teramo è stato il primo ente in Italia ad aver istituito un centro antiviolenza provinciale, la Fenice, uno strumento prezioso al quale ricorrere sempre nei casi di abusi e di stalking. Una volta effettuata la denuncia, poi comunque la donna si trova un attimino lasciata a se stessa, cioè non è proprio più seguita dalle forze dell'ordine e dagli operatori del diritto. Quindi io dico un po' più di attenzione anche su questo versante non guasterebbe. Esther Pasqualoni è stata lasciata sola in balia di uno stalker che dopo averle rubato la tranquillità, le ha rubato anche la vita. Con lei se ne è voluto andare anche lui, impiccato ad una corda dentro casa, per ricordare al mondo che loro erano una cosa sola. Rimaniamo su questo argomento per una vicenda molto simile che però vede protagonista il territorio di Chieti perché un uomo è stato condannato per stalking dopo aver minacciato e molestato in maniera reiterata la donna con la quale aveva avuto una relazione fino a procurarle un perdurante grave stato di ansia e di paura. Un uomo di 53 anni è stato condannato per stalking con il rito abbreviato a un anno e quattro mesi di reclusione e a 5.000 euro di risarcimento dei danni dal gruppo del Tribunale di Chieti Luca De Ninis, assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di tentata violenza privata. Il PM Giancarlo Ciani aveva chiesto due anni e sei mesi per l'uomo. Secondo l'accusa la donna avrebbe ricevuto una lettera contenente parole offensive e minacce di morte rivolte anche alla figlia minorenne. Sempre utilizzando una falsa identità, inoltre l'uomo l'avrebbe tempestata di espressioni di disprezzo e ingiuriose sia attraverso Facebook che attraverso messaggi telefonici minacciandola di raggiungerla per attenderla in strada. Cambiamo argomento ma rimaniamo in tema cronaca perché la squadra mobile della questura di Pescara ha individuato ed arrestato una prostituta che ha continuato la sua attività nonostante fosse ammalata di HIV ed epatite C. Decisivo l'appello al termine di una precedente operazione antiprostituzione a cui ha risposto l'ex fidanzato. Potrebbero essere molti i clienti della donna, per questo la polizia ha deciso di diffondere nome e foto della prostituta. Vediamo. Abbiamo ritenuto prevalenti le esigenze investigative, non solo, ma innanzitutto quelle di tutela della salute pubblica e anche quelle delle singole persone che possono aver avuto contatti con lei. Riteniamo che ci siano ancora altre persone che non si sono presentate per paura o per vergogna quindi rinnoviamo l'invito fatto l'altra volta a presentarsi qui da noi. Iole Marafini si è prostituita nella zona della stazione centrale di Pescara almeno fino allo scorso 3 di maggio, quando per una tentata rapina ai danni di un negozio gestito da cinesi è stata arrestata. La donna, 36enne, originaria di San Benedetto del Tronto, pluripregiudicata e tossicodipendente è affetta da AIDS e da epatite C, ciò nonostante ha continuato a prostituirsi per procurarsi il denaro necessario ad acquistare la droga. La squadra mobile della questura di Pescara, nell'ambito di una precedente indagine che ha debellato alcuni gruppi criminali albanesi e romeni dediti allo sfruttamento della prostituzione nella zona di Pescara Centro e della Pineta D'Annunziana, aveva individuato la donna e lanciato un appello affinché clienti o conoscenti si recassero in questura a sporgere denuncia. Appello che ha sortito l'effetto desiderato perché alla polizia è arrivato un ex fidanzato della donna che l'ha riconosciuta e ha raccontato di aver avuto rapporti non protetti con lei perché ignare o del pericolo. Racconto che ha fatto scattare la custodia cautelare in carcere decisa dal GIP del Tribunale di Pescara Elio di Bongrazio con l'accusa di tentate e lesioni gravissime, tentate perché l'uomo ora sta bene e al momento non ha contratto alcuna malattia. È una misura estrema quella della custodia cautelare in carcere che si è resa necessaria e ha visto il comportamento spregiudicato che questa persona ha tenuto negli ultimi tempi. Non c'è solo il discorso della prostituzione sul quale attendiamo ancora riscontri di clienti che non si sono presentati in questura ma si è presentato qui da noi l'ex convivente. Ma non c'è solo questo discorso della prostituzione come dicevo ma si è verificato anche un episodio molto grave nel corso di un furto lei ha opposto resistenza al proprietario che cercava di bloccarla e poi gli ha sputato in faccia minacciandolo che l'avrebbe infettato perché è portatrice di queste patologie. Passiamo alla politica, adesso ci spostiamo all'Aquila perché Pierluigi Biondi, candidato sindaco del centrodestra, presenta il suo programma di governo per i primi 100 giorni amministrativi in caso di vittoria al ballottaggio contro Americo di Benedetto, candidato del centrosinistra. Biondi punta sulla rigenerazione urbana e sul commercio ma anche su scuola e università. Il servizio è di Daniela Rosone. Iniziative per i primi 100 giorni di governo in caso di elezione le ha illustrate oggi il candidato del centrodestra al ballottaggio di domenica 25 giugno, Pierluigi Biondi. Obiettivo chiarire che il centrodestra ha un programma e delle proposte precise. Lavorare innanzitutto immediatamente per ricollocare studenti in scuole sicure, ha detto Biondi. Altro obiettivo far tornare gli studenti universitari all'Aquila. Questo non in termini di qualità didattica che è già eccellente, soprattutto in termini di servizi e altre iniziative mirate. Biondi ha anche spiegato come dovrà funzionare la macchina amministrativa, diminuendo le tasse come ad esempio quella sui rifiuti. Il ruolo delle delegazioni per Biondi dovrà essere centrale e fondamentale con servizi implementati. Sul tema dell'inclusione andrà previsto un disability manager e bisognerà formare i dirigenti per lernerli professionali al massimo. Assegnare poi il progetto case a famiglie che ne hanno realmente bisogno e determinare per gli aquilani un ESEE corretto, che non deve tener conto della prima casa per poter accedere così ai servizi come asilinido a prezzi contenuti. Sul Gran Sasso, Biondi propone la riperimetrazione del SIC ed ha mostrato ai cronisti una simulazione indicativa per far capire come si potrebbe sviluppare la montagna. Per la vivibilità vanno introdotti degli standard, soprattutto nel centro storico ribadito. Aderiremo alla rete di città sane, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E ancora sul turismo, una mappatura di tutto ciò che c'è. Si creerà la consulta dei quarti con un rappresentante per quarto che potrà dialogare direttamente con il sindaco. Parlando di ricostruzione, Biondi ha affermato che per lui il blocco dipende dal cronoprogramma. Si toglierà e i cantieri della ricostruzione privata dovranno partire subito. Le risorse del resto sono sottoutilizzate. Se gli aquilani ci daranno l'onore di amministrarli, da subito ci metteremo al lavoro per far vedere che ci sono delle iniziative concrete che si possono fare, che vanno nella direzione dello sviluppo e vanno nella direzione soprattutto del miglioramento della qualità della vita. Capitolo sicurezza. In attesa dell'impianto di videosorveglianza, fare delle convenzioni con le associazioni per aiutare nella gestione e nella sorveglianza del territorio. Per il commercio, ha detto Biondi, il Comune ha rinormato le aree bianche, consentendo la trasformazione dei manufatti da temporane a definitivi, ma solo quelli per le abitazioni e non quelli adibiti ad attività produttive. Non capiamo perché. Sulla riqualificazione urbana, inoltre, Biondi ha mostrato l'idea che ha del castello pedonalizzato con attività commerciale e piano parcheggi. L'altra idea di rigenerazione urbana viene invece da Pettino. Realizzare un parco verde nei pressi della chiesa, un greenway, una zona di aggregazione per dar modo alla comunità di incontrarsi. La Conf Commercio ha deciso di donare un assegno da 5.000 euro al Comune di Farindola che lo utilizzerà per opere di ricostruzione. Il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, al nostro microfono ha bollato come mancanza di sensibilità la locannina del convegno poi annullato all'Università di Teramo. Lo ascoltiamo. 5.000 euro per ricostruire, per aiutare e per sostenere il gruppo di protezione civile PIVEC, pronto intervento volontario emergenze civili, di staccamento di Farindola che ha operato durante la tragedia dell'hotel Rigopiano nel pieno dell'emergenza sisma e il maltempo. E il contributo che questa mattina la FIMA Conf Commercio ha consegnato nelle mani del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che ha sottolineato l'importanza di questi piccoli grandi gesti di solidarietà da parte delle imprese invitandole ad investire nell'area farindolese e accogliere le opportunità fiscali messe in campo dall'inclusione del Comune Vestino nel cratere sismico. Siamo abruzzesi e quindi molte volte magari vengono visti altri territori e noi passiamo sempre un po' nel dimenticatoio. Quindi a me fa enorme piacere aver messo in moto questo piccolo sostegno e quindi oggi aver dato questi 5.000 euro a questa associazione reale dove questi soldi non si sono persi nei meandri così istituzionali. Mentre succedono i fatti calamitosi e le persone corrono noi vogliamo dimostrare che effettivamente la FIMA Conf Commercio è sempre presente anche dopo questi eventi proprio per dare una mano d'aiuto anche a questi territori per poter dimostrare la vicinanza proprio per questi eventi che hanno subito. Con quel contributo andremo ulteriormente a potenziare una struttura che il Comune sta dando al gruppo di protezione civile affinché ci siano più strutture e più gestione dell'emergenza. Il primo cittadino di Farindola non ha voluto affondare invece sulla vicenda della locandina del convegno dell'Università di Teramo poi annullato dal Rettore. Per il Sindaco, amareggiato, è stata una mancanza di sensibilità da parte degli organizzatori. Sicuramente poca sensibilità nella scelta del titolo fermo restando magari la bontà del convegno stesso che era finalizzato a rilancio di un'area. È chiaro che il nostro pensiero va comunque ai familiari che continuano a soffrire anche in questi giorni e quindi è l'auspicio che si possa sempre trattare con sensibilità tutti gli argomenti che riguardano Rigopiano. Bene è stato l'annullamento dell'evento a dimostrazione di vicinanza verso i familiari. Malati nefropatici costretti alla dialisi al caldo senza aria condizionata. La denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che ieri ha effettuato un'ispezione all'interno del reparto. Ascoltiamolo nell'intervista. Sono tornato nuovamente ad effettuare una visita ispettiva nel reparto dialisi 2 dell'ospedale di Pescara dove ho trovato una situazione simile a quella di un anno fa. Io interveni già un anno fa chiesi l'intervento dei NAS e lì ci sono dializzati ci sono malati nefropatici che devono effettuare la dialisi con temperature altissime. Il sole batte sulle finestre va anche a penetrare appunto le finestre e disturba anche queste persone perché sono raggi di sole che li vanno direttamente addosso. Ma le temperature da mezzogiorno in poi si alzano notevolmente. Loro per sottoporsi a questa prestazione devono stare quattro ore ferme sul letto hanno questa depurazione del sangue già sono fortemente debilitati con questo caldo potete immaginare voi mi hanno contattato hanno chiesto nuovamente il mio aiuto io sono andato di corsa dicendo aiutaci perché non ce la facciamo più. Tanti tanti utenti sono circa più di 100 utenze che si alternano appunto all'interno del reparto. Io ho parlato con i vertici del reparto ho sottoposto il problema ho chiesto pubblicamente anche nuovamente l'intervento dei NAS mi auguro che intervengano il problema è un problema serio io continuerò a fare queste ispezioni continuerò a denunciare queste cose più di questo non riesco a fare ho chiesto anche l'intervento del pubblico, del presidente dell'assessore regionale della sanità perché se non interviene il direttore generale l'organo politico che deve esercitare le funzioni di condono deve intervenire. In alcune stanze lì è presente l'aria condizionata non in tutte basterebbe una spesa modica per cercare di alleviare le sofferenze di questi pazienti? Sì, sono 3-4 stanze quindi uno splitterino per ogni stanza 3-4 mila euro si fa il lavoro quindi è assurdo che un AS che vive di 600 milioni di euro l'anno un bilancio di 600 milioni non trovi 3-4 mila euro per dei condizionatori. ci sono stanze tipo la stanza con Dumasciari la stanza dove c'è il responsabile del reparto il primario che ha lo splitter e c'è una temperatura gradevole molto fresca quindi si può fare. Caro estinto a Lanciano le associazioni di categoria Anifa e Casa Artigiani denunciano gli aumenti delle tariffe cimiteriali a seguito della delibera del comune che affida i servizi alla società in house Anxanum tariffe alle volte anche decuplicate rispetto a quelle attuali. A Lanciano anche morire sta diventando un lusso almeno secondo quanto denunciano le agenzie funebri aderenti alle associazioni di categoria Anifa e Casa Artigiani che contestano l'aumento incontrollato delle tariffe per servizi e operazioni cimiteriali in alcuni casi addirittura triplicate come per la tumulazione che passa da 50 fino a 180 euro a seconda della postazione dell'oculo o decuplicate come nel caso della rimozione posa della lapide passando da 12,20 euro a 134,20 Le imprese contestano la delibera comunale del febbraio scorso in cui si stabiliscono non solo gli aumenti ma anche i costi aggiuntivi per i nuovi servizi precedentemente non contabilizzati poiché compresi nelle tariffe in vigore Contestualmente le agenzie funibri puntano il dito contro i tentativi di monopoglio da parte della società Anxanum Multiservizi Intercomunali S.P.A. del comune di Lanciano Sindaco quando abbiamo avuto una riunione dove si parlò proprio di questo aumento delle tariffe dove noi sia giudicammo non congruo l'aumento delle tariffe soprattutto in considerazione del fatto che il comune aveva l'obiettivo di ridurre queste tariffe attraverso l'affidamento a una multiservizi ma soprattutto non si capiva come poteva da dove usciva fuori la convinzione che le attività cimiteriali le poteva svolgere solo la società anche nella tabella delle tariffe si esplicita proprio il fatto che alcune attività sono esclusiva di questa società milantando delle responsabilità sulla sicurezza degli utenti cosa che noi contestiamo sarà un weekend di grandi appuntamenti nei borghi terramani che renderà questo fine giugno interessante per i molti turisti che hanno già invaso la costa Civitella del Tronto Montorio Campli e Miano sono pronti ad ospitare visitatori ed offrire loro un ricco cartellone di eventi weekend ricchissimo di appuntamenti in provincia di Teramo iniziamo con Civitella del Tronto dove si danno appuntamento ambasciatrici della bellezza da tutto il mondo e campioni olimpici per una raccolta fondi destinata alla ricostruzione della scuola materna penso sia un evento più unico che raro perché comunque portare in Italia delle nazioni differenti portarne 40 insieme a olimpionici importanti per ricostruire una scuola materna beh sia veramente stata una bella sfida a Montorio invece torna la sesta edizione di Weekend Arte con una serie di mostre e spettacoli il tema dell'edizione è incentrato sulle arti visive pittura, disegno fotografia, fumetto e murales pensiamo all'incirca verso aprile ci sarà la possibilità di realizzare una scuola di affresco per poi il prossimo anno ce l'auguriamo porteremo affreschisti italiani internazionali a Montorio ci trasferiamo ora a Sant'Onofrio di Campri con la Peripost tra sport, spettacoli e solidarietà la particolarità di far socializzare le attività commerciali di via Mirabili con caratteristiche anche sociali perché appunto ci saranno iniziative a favore della Caritas e per finire andiamo a Miano bellissimo borgo terramano dove le vecchie glorie del calcio locale tornano in campo facendo da cornice a storia e cultura occasione per fare il punto della situazione sull'impiantistica sportiva del territorio alla luce dei danni provocati dal terremoto e dalla nevicata però per noi è l'occasione anche per ritrovare tantissimi ragazzi oggi persone adulte anche anziane come me che in questi 50 anni hanno indossato la maglia bianco-rossa e non sarà solo una rimpatriata per i ricordi si festeggia c'è musica si mangia si beve e a Nereto da domani fino al 2 luglio appuntamento con la prima edizione del Beer Festival ad organizzare la manifestazione un gruppo di giovani del piccolo paese del Terramano capitanato dal parroco Don Roberto Camerucci la centralissima piazza Cavour qui a Nereto si animerà dal 23 giugno al 2 luglio della prima edizione di Nereto Beer Festival un evento che unisce la bionda per eccellenza con l'enogastronomia ma la particolarità di questo evento è legato alla regia che vede il giovane parroco di Nereto Don Roberto Camerucci organizzare un evento attraverso la Proloco l'amministrazione comunale di Nereto e alcuni cittadini Don Roberto è riuscito a mettere attorno a sé tante anime e soprattutto tanta forza fisica tanto volontariato da parte della società civile neretese da parte del mondo associazionistico della Proloco e di altre realtà una sorta di mini laboratorio per sperimentare la coesione a cui lei faceva riferimento ma soprattutto lo possiamo dire in maniera tranquilla anche per procacciare le risorse economiche necessarie per due finalità importanti la ristrutturazione della Chiesa Madre e le esigenze della Caritas dove tra l'altro lei ha registrato un forte aumento della richiesta di aiuto e sussidio Sì questo mi colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i volontari della Caritas che si adoperano senza escursione di colpi diciamo per questo servizio questo volontariato insomma la situazione sociale è questa i poveri gli indigenti stanno in aumento purtroppo le altre istituzioni sono assenti e questo festival della birra vuole anche essere motivo di smuovere diciamo così le altre istituzioni per fargli rendere conto che i cittadini non sono un numero ma sono appunto persone e vengono trattate come tale e apriamo la pagina di sport adesso ovviamente partiamo con il Pescara con le sinergie con Atalanta e Inter per il mercato del Delfino si tinge sempre più di Nerazzurro il daglio Robbi ci potrebbe arrivare anche il provettente difensore centrale Bastoni dopo Caponi e Latte intanto salta l'operazione Palermo per l'ex allenatore Massimo Oddo la società Rosa Nero ha scelto in panchina Bruno Tedino il direttore sportivo sarà una vecchia conoscenza del calcio abruzzese l'ex terramano Fabio Lupo il servizio di Andrea Costantini Fari puntati sulla difesa il Pescara vuole cambiare in parte registro e affidare a Zeman giocatori in grado di interpretare al meglio i suoi principi di gioco per quanto quella difensiva non sia la fase prediletta del Boemo tra i vecchietti della retrovia Zeman vorrebbe affidarsi all'esperienza e alla leadership di Ugo Campagnaro il cui contratto è scaduto e che il presidente Sebastiani è pronto a rinnovare purché il compenso sia dipendente dal numero di presenze che l'argentino riuscirà a garantire non rientrano nei piani invece Andrea Coda e Guglielmo Stendardo per cui i DS Leone e Pavone cercheranno delle soluzioni nel corso dell'estate anche se piazzarli non sarà facile il rinnovamento passa da alcuni elementi giovani e altri più esperti della categoria tra questi ultimi rientra il profilo di Biagio Meccariello della Ternana centrale cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni tra i giovani c'è Alessandro Bastoni prodotto del fervido vivaio dell'Atalanta classe 99 l'entourage del difensore ha già mostrato gradimento verso Zeman nella piazza Pescarese e l'Atalanta potrebbe chiudere un'altra operazione di prestito dopo quelle pressoché definite degli attaccanti Latte Latte e Capone se ne riparlerà ieri i dirigenti del Delfino hanno avuto anche dei contatti con la Fiorentina per il 22enne croato Riccardo Bagadur reduce dai prestiti a Salernitane Benevento ma la pista è fredda quelle calde sono sempre a tinte nerazzurre Atalanta sì ma anche Inter nell'operazione che sta portando Mamadou Coulibari al club milanese finisce anche il centrocampista bianca-azzurro classe 2000 Marco Pompetti prospetto di cui si dice un gran bene come detto percorso opposto per i nerazzurri Andrea Palazzi e Marco Carraro e con il Delfino che non dispera di poter arrivare anche ad altri due primavera o uno dei due Valietti e Van Oisden e gli intrecci nerazzurri non sono finiti qui come specificato ieri Gianluca Caprari può finire alla Sampdoria nell'ambito dell'operazione che porterà il difensore Blucerchietto Skriniar all'Inter se Caprari dovesse essere ceduto a titolo definitivo il 50% del prezzo del trasferimento finirà nelle casse del Pescara con lo stesso principio il 50% del prezzo della cessione eventuale di Cristiano Biraghi finirà nelle casse interiste sempre sul fronte cessioni si registra un sondaggio del Carpi per il terzino Davide Vittorini mentre da ieri sera è ufficiale il mancato esercizio del diritto di riscatto del Verona sul centro avanti Simone Andrea Ganz l'operazione con la Juventus per l'arrivo del figlio d'arte sembra oramai in discesa infine beffa al fotofinish per l'ex tecnico del Pescara Massimo Oddo dato per vicinissimo alla panchina del Palermo stamani l'annuncio ufficiale che il neo allenatore rosa nero sarà l'ex pordenone Bruno Tedino ufficiale anche che si metterà definitivamente alle spalle la breve e traumatica esperienza di Teramo della scorsa stagione Scendiamo in Lega Pro adesso in casa Teramo il centrocampo sembra essere il reparto che subirà una profonda rifondazione l'obiettivo principale sembra essere Paolo Valagussa l'anno scorso al Gubbio ma stimato sia dall'allenatore che dal direttore sportivo Paolo Valagussa il desiderio Alessandro Bruno una possibilità più che concreta il centrocampo del Teramo presto potrebbe avere una fisionomia molto diversa e subire per primo quella rifondazione che molti si aspettano ci vorranno le uscite prima le entrate verranno successivamente anche se nelle ultime ore la strategia potrebbe ribaltarsi il centrocampista lo scorso anno al Gubbio è in cima alla lista dei desideri di Antonino Asta più di Davi della Feralpi Salò Valagussa peraltro piace e come anche a Giorgio Repetto che lo seguì qualche stagione fa e che avrebbe potuto portare anche a Pescara dunque è lui il primo obiettivo di mercato posto che nella collaborazione col Pescara gli arrivi dalla casa biancazzurra saranno certamente meno complicati le insicurezze maggiori sono nel reparto arretrato perché Caidi Speranza e Altobelli rimarranno in bianco rosso e di conseguenza la difesa potrebbe subire a differenza degli altri reparti da rifondare totalmente solo un restyling anche se sostanzioso mancano gli esterni e allora ecco che Ventola proprio dal Pescara potrebbe fare al caso del diavolo e mancano i ricambi dei due titolarissimi ma sono questioni che Repetto affronterà con calma perché le priorità adesso sono le altre zone del campo quelle sotto la lente di ingrandimento probabile che in pochi si salveranno da questa mezza totale rivoluzione anche chi come Amadio e Di Paolo Antonio sembravano poter far parte della rosa della prossima stagione con Sanzovini si cercherà un accordo per trovare la strada migliore sia per il ragazzo che per la società è evidente che non abbia sfondato soprattutto nel cuore della tifoseria e la questione ambientale l'anno prossimo sarà fondamentale per una squadra che ha come primo obiettivo assoluto la salvezza e che avrà bisogno della vicinanza della propria tifoseria per sostenere anche quelle settimane nelle quali arriveranno delle sconfitte questione ritiro il 19 luglio con ogni probabilità via la preparazione precampionato dal Fedena ma c'è la possibilità che il raduno possa essere anticipato di due giorni dal 17 fino al 31 luglio per l'inizio del ritiro è evidente che Assa dovrà barcamenarsi con una rosa che poi non sarà quella definitiva lavorare su quei giocatori nuovi che saranno già a sua disposizione e su quelli che c'erano anche la stagione passata per cercare magari di ritrovarne la migliore condizione soprattutto psicologica e questo era anche il nostro ultimo servizio io vi ricordo domani mattina alle ore 8 l'appuntamento con la nostra rassegna stampa con Mattino 6 il TG6 invece torna domani con la prima edizione alle ore 14 è tutto per il momento io vi auguro una buonanotte per la prima edizione